La poesia del circo caratterizza la tredicesima edizione di Funambolica, il festival internazionale ideato e diretto da Raffaele De Ritis, regista e super esperto di arte circense. Prodotto da lente manifestazioni pescaresi, il festival avrà inizio sabato 22 giugno alle 21.15 nell'area Ex-Cofa. Ad inaugurare la Kermess saranno gli artisti della Circo Zoé che porteranno in scena Born to be Circus con 10 repliche ogni sera fino al 1 luglio. Stanno montando il tendone del Circo Zoé che è una compagnia di 15 artisti italiani, portoghesi, francesi, sono appena arrivati dal Brasile e apposta per noi fanno questo spettacolo a Pescara che inizia sabato 22 e sarà prorogato per 10 date fino al 1 luglio ogni sera all'Ex-Cofa, qui sotto la ruota panoramica. E' solo il primo degli eventi e delle sorprese di Funambolica. Funambolica non è un cartellone in realtà ma sono degli eventi progettati appositamente per Pescara e per tutti gli operatori italiani e internazionali che vengono qui a scoprire ormai da 13 anni le novità. Infatti poi ci sposteremo il 2 luglio al Teatro d'Annunzio con una esclusiva nazionale. La compagnia ungherese Re Cirquel sono considerati uno dei migliori spettacoli del mondo, sono stati ultimamente a New York, a Londra, a Parigi. Il loro direttore è il coreografo di Tim Burton per il film Dumbo. Questa produzione sarà in scena il 2 luglio e si intitola My Land. Il 5 luglio chiuderemo con l'appuntamento che forse è più atteso, il Gran Galà du Cirque, che ormai a Pescara è il sold out di tutti gli eventi culturali e raccoglie come ogni anno le più grandi novità da tutti i festival e da tutti i circhi del mondo. Quindi premiati di Monte Carlo, vincitori del Guinness dei Primati e dei talent show di tutto il mondo, artisti di 12 nazioni, sia con esibizioni a 7 metri d'altezza o acrobazie al suolo e soprattutto comicità e poesia, che poi sono gli ingredienti che appassionano qualunque fascia di pubblico. Il circo fatto in questo modo, il circo che dà risalto alle abilità dell'uomo, alla sua capacità di sfidarsi e di sfidare i propri limiti lasciando a casa e nella loro casa gli animali. Il circo è un'arte circense alla quale sicuramente il Circo du Soleil ha aperto la strada, ma insomma adesso ce ne sono tanti. Certo, il Circo du Soleil è un archetipo ma su scala industriale, come un grande musical, invece ci sono tantissime altre tendenze completamente diverse l'una dall'altra. L'idea di Funambolica di presentare sempre tre grandi titoli è anche quella di presentare tre forme completamente diverse da loro.